Una nuova scorsa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 4.33 sempre in Croazia, in particolare nel centro della Croazia. Secondo l'ingv dell'Italia il sisma e il terremoto ha avuto ipocentro a 10 km di circa di profondità ed ipicentro sempre vicino alla città di Petriniaca. Tre giorni fa nella zona una scorsa di 6.3 ha causato la bellezza di 7 morti, quindi 7 vittime, 30 feriti e ovviamente ingenti danni sia agli edifici che agli abitazioni. Diverse altre repliche con una magnitudo fino a 5.0 ci sono stati, ci sono quindi andate a svilupparsi o meglio a susseguirsi. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video e per la relativa visione, iscrivetevi al canale e commentate. Un saluto caro da Leandro e al prossimo video una buona giornata e auguri di buon anno. A voi tutti, vi sei considerato che oggi è il 31 dicembre 2020. Ciao!